Egregio Signore, la sua lettera mi è aggiunta solo alcuni giorni fa. Voglio ringraziarla per la sua grande e cara fiducia. Poco altro posso. Non posso addentrarmi nella natura dei suoi versi, poiché ogni intenzione critica è troppo lungi da me. Non la può toccare tanto poco un'opera d'arte quanto un componimento critico. Se ne ottengono sempre più o meno felici malintesi. Le cose non si possono tutte afferrare e dire come d'abitudine ci vorrebbero far credere. La maggior parte degli eventi sono indicibili. Si compiono in uno spazio in accesso alla parola. E più indicibili di tutto sono le opere d'arte. Esistenze piene di mistero la cui vita, accanto all'effimera nostra, perdura. Ciò premesso mi sia solo consentito dirle che i suoi versi, pur non avendo una natura loro propria, hanno però sommessi e velati germi di una personalità. Con più chiarezza lo avverto nell'ultima poesia, La mia anima. Qui qualcosa di proprio vuole farsi metodo e parola. E nella bella poesia Leopardi affiora forse una certa affinità con quel grande solitario. Eppure quei poemi sono ancora privi di una loro autonoma fisionomia. Anche l'ultimo è quello a Leopardi. La sua gentile lettera che li accompagnava non manca di spiegarmi varie pecche che ho percepito nel leggere i suoi versi, senza però potervi dare un nome. Lei domanda se i suoi versi siano buoni. Lo domanda a me. Prima lo ha domandato ad altri. Li invia alle riviste. Li confronta con altre poesie e si allarma se certe redazioni rifiutano le sue prove. Ora, poiché mi ha autorizzato a consigliarla, le chiedo di rinunciare a tutto questo. Lei guarda all'esterno. Ed è appunto questo che ora non dovrebbe fare. Nessuno può darle consiglio o aiuto. Nessuno. Non v'è che un mezzo. Guardi dentro di sé. Si interroghi sul motivo che l'ha intima di scrivere. Verifichi se esso protenda le radici nel punto più profondo del suo cuore. Confesse a sé stesso morirebbe se le fosse negato di scrivere. Questo soprattutto si domandi nell'ora più quieta della sua notte. Devo scrivere. Frughi dentro di sé alla ricerca di una profonda risposta. E se sarà di assenso. Se lei potrà affrontare con un forte e semplice io devo questa grave domanda. Allora costruisca la sua vita secondo questa necessità. La sua vita. Fin dentro la sua ora più indifferente e misera. Deve farsi insegna e testimone di questa urgenza. Allora si avvicini alla natura. Allora cerchi, come un primo uomo, di dire ciò che vede e vive. e ama e perde. Non scriva poesie d'amore. Eviti dapprima quelle forme che sono troppo correnti e comuni. Sono le più difficili, poiché serve una forza grande e già matura per dare un proprio contributo dove sono in abbondanza tradizioni buone e in parte ottime. perciò rifugga dai motivi più diffusi verso quelli che le offre il suo stesso quotidiano. Descriva le sue tristezze e aspirazioni i pensieri effimeri e la fede in una bellezza qualunque. Descriva tutto questo con intima, sommessa, umile sincerità e usi per esprimersi le cose che le stanno intorno, le immagini dei suoi sogni e gli oggetti del suo ricordo. Se la sua giornata le sembra povera, non la accusi. Accusi se stesso, si dica che non è abbastanza poeta da evocarne le ricchezze, poiché per chi crea non esiste povertà, né vi sono luoghi indifferenti o miseri. E se anche si trovasse in una prigione, le cui pareti non lasciassero trapelare ai suoi sensi i rumori del mondo, non le rimarrebbe forse la sua infanzia, quella ricchezza squisita, regale, quello scrigno di ricordi. Rivolga lì la sua attenzione. Cerchi di far emergere le sensazioni sommerse di quell'ampio passato. La sua personalità si rinsalderà, la sua solitudine si farà più ampia e diverrà una casa al crepuscolo, chiusa a lontano rumore degli altri. E se da questa introversione, da questo immergersi nel proprio mondo sorgono versi, allora non le verrà in mente di chiedere a qualcuno se siano buoni versi, né tenterà di interessare le riviste a quei lavori, poiché in essi le vedrà il suo caro e naturale possesso, una scheggia e un suono della sua vita. Un'opera d'arte è buona se nasce da necessità, e questa natura della sua origine a giudicarla, altro non v'è. E dunque, egregio signore, non avevo da darle altro consiglio che questo. Guardi dentro di sé, esplori le profondità da cui scaturisce la sua vita. a quella fonte troverà risposta alla domanda se lei debba creare. La accetti come suona, senza stare a interpretarla. Si vedrà forse che è chiamato a essere artista. Allora, prenda su di sé la sorte e la sopporti, ne porti il peso e la grandezza, senza mai ambire al premio che può venire dall'esterno, poiché chi crea deve essere un mondo per sé e in sé trovare tutto, e nella natura sua compagna. Forse, però, anche dopo questa discesa nel suo intimo, nella sua solitudine, dovrà rinunciare a diventare un poeta. Basta, come dicevo, sentire che senza scrivere si potrebbe vivere perché non sia concesso. Ma anche allora, l'introversione che le chiedo non sarà stata vana. La sua vita, in ogni caso, troverà da quel momento proprie vie e che possano essere buone. ricche e ampie, questo io le auguro più di quanto sappia dire. Cos'altro dirle? Mi pare tutto equamente rilevato e poi, in fondo, volevo solo consigliarla di seguire silenzioso e serio il suo sviluppo. Non lo può turbare più violentemente che guardando all'esterno e dall'esterno aspettando risposta a domande cui solo il sentimento suo più intimo nella sua ora più quieta può forse rispondere. Mi ha rallegarato trovare nel suo scritto il nome del professor Horacek, servo per quell'amabile studioso grande stima e una gratitudine che non teme gli anni. Voglia la prego dirgli questo mio sentimento. È molto buono a ricordarsi ancora di me e lo so apprezzare. Le restituisco inoltre i versi che gentilmente mi ha voluto confidare e la ringrazio ancora per la sua grandezza e la cordialità della sua fiducia di cui con questa risposta sincera e data in buona fede ho cercato di rendermi un po' più degno di quanto io un estraneo non sia suo devotissimo. Parigi 17 febbraio 1903 1903 1903